Ciao! Io ho parlato molto abonvergognati. Ho parlato a cantare! Ano la sabi n'ya dito sa experience natin? Bellissima, rincontro Paolo con noi! Anna Falki! Io rincontro Hanna Falki! Paolo, Paola! Anna Falki c'è! Glabiosa! E' bellissima! E' un grande appassione! Benvenuti tutti nel mio spettacolo! Questi sono tutti i miei guest! E la mia cameriera! E la mia cameriera! Pizzas! Servizio deluxe completo! Dai, dai! Oggi salita anche io, non lo sape n'ya dito! E' forse molto bello! Molto grande pure! Oggi non lo sape n'ya dito! Troppo bello, schia! Oh, ci sono altri! Oh, questo è un biglietto e ci sorrende al mondo!